Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Nicole, Nicole Evoli. Sono Amedeo e Meme per gli amici o per la maggior parte delle persone. Cosa fai nella vita? Nella vita studio Scienze della Comunicazione. Frequento il primo anno del corso di Scienze della Comunicazione. Come ti trovi al campus? È molto bello, mi trovo molto bene. A differenza di molte altre che si trovano a Genova, che sono praticamente sfaticenti. Mi trovo benissimo sia per l'ambiente che per le persone che ho conosciuto, per i professori, le materie. Mi piace tantissimo. Facci un saluto. Bella, regà! Ciao! Bella! Ciao!